ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video in cui parlerò della juventus e di quello che si sta sviluppando attorno alle aspettative di mercato dei bianconeri da parte dei tifosi soprattutto dei giornalisti in questi giorni infatti stiamo assistendo a una sorta di apoteosi attorno alla juventus che parte dalla figura del nuovo allenatore che ancora insomma non sappiamo ufficialmente chi sia nonostante insomma tutto faccia pensare che sarà appunto tiago motta e nello stesso tempo però si sono scatenate voci di ogni genere riguardo appunto al prossimo al prossimo mercato ea ea quale sarà la prossima la prossima juventus insomma le voci pettegolezzi le anticipazioni sono sono tantissime di ieri quella che reputo veramente assurda di un presunto di una presunta proposta di rinnovo arabiò per 7 milioni e mezzo all'anno una cifra assolutamente fuori luogo fuori fuori tempo soprattutto per quella che era juventus in questo momento quelli che sono stati e sono ancora i suoi problemi soprattutto proprio quelli di di bilancio per cui insomma offrire una cifra del genere a un giocatore che in tanti anni che che alla juventus sono sono 5 6 non ha mai dimostrato di essere un grande giocatore di essere soprattutto un uomo importante per per la juventus credo sia sia veramente una follia siano veramente soldi soldi buttati dalla finestra a questo punto insomma meglio investirli in un allenatore importante piuttosto che a darli a un giocatore che ripeto non ha non è riuscito mai a dimostrare nulla non è mai riuscito a diventare un pilastro del centrocampo della juventus in un campionato e solitamente gioca tie 4 5 partite di livello per il resto alterna prestazioni alternato insomma prestazioni imbarazzanti a partite assolutamente normali insomma il livello della juventus dovrebbe essere ben altro per cui insomma spero che sia una delle tante fake news che leggiamo e che leggeremo nelle prossime settimane in un video di qualche giorno fa diceva appunto che una volta terminata la stagione poi comincia quello che il periodo più divertente ovvero appunto quello del calcio mercato in cui se ne sentono di tutti i colori sia avere sia naturalmente soprattutto false speriamo appunto che questa dire di rabbio sia soltanto una delle tante notizie buttate lì per per vendere qualche giornale per acquisire qualche click su internet nel frattempo però insomma si rincorrono ancora i soliti nomi ovvero quello di calafiori per la difesa quello di zrix per per l'attacco e soprattutto si sta diciamo creando un caso federico chiesa a quanto insomma si si legge a quanto dicono giornali e addette lavori se conte dovesse veramente andare al napoli una delle prime richieste che farebbe a della ventus sarebbe quella di portare chiesa al napoli un'operazione che io naturalmente condannerei in maniera assoluta perché privarci di federico chiesa sarebbe un peccato mortale un peccato capitale proprio perché è proprio da lui che bisogna ripartire da giocatori come lui che non solo hanno classe da vendere ma non sono giovani e hanno una gran voglia di portare in alto la juventus lui come vlaovic naturalmente e poi c'è la voce di di gregorio del portere del monza che dovrebbe appunto arrivare alla juventus non si sa ancora se al posto di scesni o per in a questo punto visto che si deve fare un sacrificio a questo punto meglio insomma anche tagliare qualche costo e mandar via scesni sia per proprio per il monte in gaggi sia anche per per l'età tornata ad avere due porteri italiani per la juventus sarebbe insomma molto importante e soprattutto una mossa molto significativa simbolica nei confronti proprio delle delle dell'italia e di quello che deve e dovrebbe tornare a essere il blocco juventus in nazionale pochi giorni fa spalletti parlava del blocco inter lo ha addirittura messo a confronto messo allo stesso livello di quello della juve del 1982 in maniera un po azzardata però appunto è passato troppo tempo da da quando la juventus forniva alla nazionale tanti giocatori e sarebbe anche arrivato il momento di di rifarlo nuovamente perché come anche la ha insegnato la storia senza una buona rappresentativa di giocatori della juventus l'italia non ha mai vinto niente l'ultimo dopo che l'abbiamo vinto è stato proprio nel segno della coppia chiellini e bolucci nel segno di chiesa appunto e anche nel segno di locatelli che adesso per vicissitudini non direttamente legate a lui insomma non di sua responsabilità ma del del modo in cui lo ha bruciato letteralmente allegri non è stato neanche convocato per gli europei che insomma tra due settimane cominceranno locatelli sarà un giocatore da recuperare da ricostruire a mio avviso se il nuovo allenatore lo farà giocare nel suo vero ruolo ovvero quello di mezzala visto che insomma adesso abbiamo recuperato anche fagioli che potrebbe tranquillamente diciamo coprire il ruolo di regista con nicolussi caviglia come come riserva locatelli potrebbe tranquillamente a fare quello che sa fare meglio appunto la mezzala insomma le le notizie di mercato si si susseguono giorno dopo giorno ora dopo ora addirittura direi con i giornalisti scatenati alla ricerca di scoop di notizie vero false che siano e la juventus naturalmente quella che ricopre sempre il ruolo di ruolo di protagonista nel bene e nel male parlare della juventus porta sempre seguito porta sempre vendite e visite ai siti ai siti internet vediamo insomma vedremo giuntoli cosa cosa farà quali saranno le sue mosse per questo mercato estivo se il napoli dovesse veramente prendere conte a quel punto potrebbe diventare una versania molto molto ostica l'inter bisognerà vedere come finirà la storia della della proprietà se ci saranno strascichi se la squadra verrà mantenuta se verrà invece smontata sul milan sinceramente credo credo molto poco anche anche se hanno mandato via pioni non penso insomma che il milan possa tornare a far a far paura ecco io il prossimo anno restringerei la corsa scudetto a juventus inter e napoli sempre se napoli prende conto perché se se prendesse un altro allenatore rischerebbe di fare un'altra stagione come questa appena finita fatemi sapere cosa ne pensate voi usate e seguiamo insomma vedremo come come si muoverà giuntoli in questa sessione di mercato per adesso mi fermo qua vi auguro buon fine settimana e alla prossima